Grande emozione nelle serate di sabato e domenica per i giovani allievi del liceo musicale Chopin che si sono esibiti presso l'auditorium della Manifattura nel concerto di fine anno. Un centinaio di musici che si sono esibiti, dai più piccini e musicisti che da poco si sono approcciati allo studio di questa straordinaria arte, a quelli più esperti che hanno lietato al folto pubblico presente in sala. Il liceo musicale Chopin, fondato nel 1985 a Quornier dal maestro Severino Fasana, con lo scopo di incentivare lo studio dell'arte musicale nei giovani e aiutarli nel difficile apprendimento di tale arte, attraverso la promozione e l'organizzazione di manifestazioni musicali, saggi e concerti come quello che si è tenuto proprio questo fine settimana. La sede principale del liceo Quornier, affiancata da due succursali, una San Giorgio Canavese e i programmi scolastici musicali interni seguono parallelamente i corsi dei conservatori di musica italiani, in particolare quelli del Conservatorio Verdi di Torino, del Conservatorio Ghedini di Cuneo e del Conservatorio Paganini di Genova. Accanto al liceo è nata l'associazione musicale omonima, con l'obiettivo di portare e diffondere l'educazione musicale tra la gente comune e soprattutto in quei luoghi lontani dai grandi centri culturali. Una rosa di maestri davvero importante è quella del liceo Chopin che cercano di trasmettere in modo semplice e naturale la passione per la musica. Grazie a tutti.